Eccoci alla terza puntata della rubrica Pillole d'autore di Volpi che camminano sul ghiaccio. Oggi parliamo di un romanzo che ho amato molto, Nessuno al mondo, di Ishaan Matar. Eccolo qua. Aspettate che ve lo mostro per intero. Come vedete è edizioni e in Audi. E un romanzo di Ishaan, è del 70, è nato a Tripoli. E questa è la storia di Suleiman, un bambino che per le strade di Tripoli incomincia ad assaggiare un po' la vita che si sta trasformando intorno a sé, anche attraverso la storia di suo padre. Il brano che vi sto per leggere è del capitolo diciannovesimo. Il sole di mezzogiorno era verticale. Appena mi cadde a piombo sulla testa ne sentì la pressione. Anche il dubbio che l'uomo nel letto fosse davvero baba mi opprimeva e non riuscivo a sfuggirgli. Ma certo che è baba. Come fai a saperlo? Perché è dentro e perché lo dice tua madre? Lo sai come bugiarda. Non dire così, è sincera. E quando mente lo fa per il tuo bene. Uscì in giardino e feci il giro della casa, all'ombra degli alberi. Passando davanti alla finestra della camera, vidi le tende aperte. Ma non gli dava fastidio la luce? Dissi fra me. Non riuscivo a vedere dentro, per via del riflesso sui vetri. Mi avvicinai, misi le mani a coppa intorno agli occhi e vidi un uomo nudo, seduto sul letto, la schiena attraversata da segni scuri e luccicanti, alcuni che trassodavano sangue. D'un tratto si voltò verso di me. Vedere la sua faccia orribile mi fece fare un balzo indietro, che mi spedì lungo disteso sotto l'albero della gomma. Aveva gli occhi chiusi, gonfi d'aria o di acqua o di sangue, due e mezzi pomodori marci. Il labbro inferiore era grosso e viola, come una melanzana. Lo sentì urlare con quell'orribile voce gorgogliante. Naiwa, naiwa, tira le tende! Mamma si affacciò alla finestra. Mi guardò per un momento, il cuore mi batteva all'impazzata, e ero ancora disteso per terra, senza fiato. Poi, con un colpo solo, tirò le tende. «Hai visto?» sussurrai tra me. «Non è baba!» Corsi in casa, mi soffermai di fronte alla porta della loro camera e bussai. «Chi c'è là dentro?» Urlai con la voce piena di terrore. Non mi risposero. «Se non mi rispondete, giuro che apro!» Dissi e spalancai la porta. Corsi alle tende e le aprì. Il mostro nudo era di nuovo sotto le coperte. Fingeva di dormire. Fingeva di essere baba. E mamma era seduta sul letto accanto a quella cosa e mi guardava. Sembrava quasi spaventata. Mi venne voglia di dirle, «Stai tranquilla, andrà tutto bene!» Invece aprì la finestra. Pensavo che così mamma e io saremmo stati più al sicuro. L'aria fresca sembrò lavare la stanza. «Baba non vuole che tu lo veda così», disse mamma. All'improvviso la figura sotto le lenzuola si alzò a sedere sull'orlo del letto, dandomi le spalle, il corpo avvolto nel lenzuolo bianco macchiato di sottili striature di sangue. A poco o a poco lo riconobbi. I capelli neri ondulati, le colline modeste delle spalle, il collo che tante volte avevo massaggiato in cui ancora più spesso avevo affondato il viso per baciarlo, per fare una di quelle vibranti pernacchie che lo facevano sempre ridere. Le lacrime mi soffocarono. «Baba», provai a dire, trassalì, «Portalo via, per favore!» «Inutilo, ormai ti ha visto!» «Baba?» «Sì», disse secco, come se lo sforzo di parlare fosse per lui un castigo. «Portalo via, gli verranno gli incubi!» «Non mi vengono quasi mai gli incubi!» Dopo alcuni secondi durante i quali pensai che dovevo uscire, altrimenti il mondo non sarebbe andato avanti, Baba parlò di nuovo. «I miei occhi non funzionano bene, sono malato!» Poi scosse la testa, agitò la mano dietro la schiena. «Pensai di correre a baciargliela mille e una volta, ma mi trattenni!» «Questo mondo nuovo, a quanto pareva, aveva regole diverse!» «Nai, va!» disse! E il gesto della mano acquistò finalmente un senso. «Ti prego, portalo via!» Se vi è piaciuto, correte a leggerlo e date un'occhiata alla recensione su Volpi che camminano sul ghiaccio all'indirizzo Elenaferro.it Buona domenica!